ciao bentornati sul mio canale sono paola e aiuto le persone a scoprire il proprio vero se nel video di oggi vorrei iniziare una serie dedicata agli ex alle relazioni e soprattutto dedicata a tutti gli italiani o a tutti quelli che hanno conoscenza della lingua italiana maschi e femmine e in particolare alla mia amica roberta per rispondere a un suo cosito che mi pose qualche tempo fa ciao roby allora come fare ad avere possibilità di riconquistare il proprio ex c'è una via giusta sì una via giusta esiste ed è quella che andrò a spiegare adesso prima di tutto bisogna dire che quando la relazione è già in crisi si può salvarla capendo veramente le ragioni del partner capendo il suo punto di vista interrogandosi su dove stia il reale problema se partiamo da questo punto di vista tutto funziona con logica con ragione e con piedi piantati e per terra che ci permette di pensare meglio di ragionare meglio e di quindi essere in armonia con noi stessi ed evitare la fine della relazione perché quando quando siamo ansiosi che il nostro partner ci lasci perché notiamo un problema questo spinge ancora è più lontano il nostro partner perché più ci attacchiamo e più abbiamo paura che lui o lei vada via questo scatena in noi delle ansie che non ci fanno pensare logicamente lo spingono ancora più via come in una profezia e che si auto avvera e perché è quello che ti fa un una preda e quindi questo senso di costruzione che mettiamo addosso al nostro partner viene inteso come voglia di liberarsi se invece capiamo veramente le ragioni sottese al fatto che il nostro partner ci stia lasciando al fatto che la nostra relazione sia finita diamo libertà al partner di fare quello che vuole il partner non si sente manipolato e costretto e quindi possiamo o riprendere la relazione anche se è più difficile o salvare quella già esistente e bisogna ricordare che è un atto di coraggio per il nostro ex il nostro quello che prima era il nostro ragazzo la nostra ragazza o nostro marito o nostra moglie lasciarsi lasciarci e quindi anche in lui scorrono delle nomante più noi pressiamo più sale il senso di colpa di quello che ci ha bidonato di quello che ha lasciato la nostra vita e quindi questo senso di colpa provoca in lui paradossalmente ancora di più il distacco un senso di freddezza una un agire freddo nei nostri e confronti è poco come se dicesse lasciami in pace ho preso la mia decisione e se invece d'altro canto e lasciamo libero il partner e questo nel partner e dopo un po dopo un po di tempo serve tempo si scateneranno delle domande inizierà a pensare come mai così tranquilla come mai non ha agito con disperazione e ne avrà avuto un altro o un'altra e mi ha mai amato e nasce nel partner questo senso di non sentirsi abbastanza e una riconsiderazione della sua decisione in senso positivo per ritornare verso di voi questo non è in senso assoluto perché nessuno ha garanzia che un proprio ex possa ritornare ma è la via giusta per massimizzare le possibilità e l'ultima cosa da ricordare per questo video è quello di mai e poi mai supplicare quando il partner ci sta lasciando il modo migliore per approfondire la separazione e mettersi nei panni dell'altro dire mi rendo conto della tua decisione capisco la tua decisione se fosse stato per me avrei agito diversamente e lavorato sul salvare la situazione ma ti auguro una buona vita buona fortuna e ciao ciao e quindi così ci dà libertà noi di ricostruire noi stessi e noi stesse e massimizza le possibilità del ritorno del nostro partner e una condivisione insieme di una relazione che sarà un nuovo inizio una nuova relazione diversa da quella precedente mia più florida più robusta e più stabile grazie mille di avermi seguito se volete se avete domande che volete che considere la mia mail paola punto guagini chiocciola gmail.com grazie a tutti e come sempre ma c'è l'ho piste